Se non hai più accesso all'email e al numero di telefono associati al tuo account Aruba, non preoccuparti. In questo video ti mostrerò la soluzione alternativa per recuperare la password del tuo account. Collegati alla pagina gestioneaccessi.aruba.it. Clicca il pulsante Reimposta password. Dal menu a tendina mantieni selezionata la voce username e nel campo accanto inserisci il tuo username Aruba. Inserisci il codice monouso visualizzato nell'immagine e prosegui. Clicca su Non hai accesso a questi dati? Modificali. Compila uno dei seguenti campi in base ai dati in tuo possesso e prosegui. Nel caso in cui il dato inserito sia stato utilizzato per la registrazione di diversi account Aruba, dovrai cliccare il pulsante Non hai accesso a questi dati? Modificali in relazione alle credenziali dell'anagrafica che desideri recuperare. Dalla seguente pagina inserisci i dati che saranno utilizzati per identificare il titolare del tuo account Aruba, tra cui nome, cognome e dati di residenza. In caso di persona fisica puoi modificare l'email e il numero di cellulare da utilizzare come riferimento. Assicurati di poterli controllare perché il sistema invierà un codice di verifica. In caso di persona giuridica puoi modificare anche la ragione sociale. Infine allega una copia a fronte retro del documento d'identità valido e leggibile del richiedente. Prosegui. Verifica la correttezza dei dati. In caso di errori modificali dal pulsante indicato. Accetta la clausola. Conferma cliccando su Invia richiesta. Inserisci il codice ricevuto tramite SMS e confermalo. Ben fatto! La procedura è terminata. La tua richiesta verrà presa in carico da un operatore che eseguirà le modifiche dopo aver verificato la correttezza dei dati e degli allegati.